L'usanza e buffe. Per essere buffo, abbasta essere signore. La gente attitolata e quadrinosa, qualunque usanza l'ha da aver curiosa o crede da rimetterci d'onore. Da sì che si è ammalato, monsignore, decastrica, maligna, verminosa, non sa riposa più, non sa riposa per copiare i bietti del dottore. Figurate che il povero decano ne schiccherà un trecento ogni mattina per poi distribuirli a mano a mano. E perché poi sti bullettini a botte? Per dar monno sta nuova sovraffina. Monsignore ha cacato a mezzanotte. Giuseppe Gioacchino Belli